I lavori di messa in sicurezza del viadotto Sente Longo, che collega Bruzzo e Molise, possono finalmente iniziare. A seguito della bollinatura della Corte dei Conti, si sono resi disponibili i primi 9 milioni di euro per avviare il cantiere. Nei giorni scorsi il progetto definitivo è stato inviato da ANAS in provincia per la validazione, ed è già stato rispedito a Roma dai tecnici dell'ente di via Berta. La prossima settimana è in programma un vertice tra regione e provincia ANAS per definire le tempistiche della cantierizzazione. Il viadotto Sente Longo, uno dei più alti in Italia con i suoi 185 metri nella parte centrale, era stato chiuso a settembre del 2018, a seguito delle verifiche successive al crollo del ponte Morandi di Genova. Da allora si sono registrate riunioni, proteste, promesse, sino alla dato odierna, quando le promesse sono finalmente divenute realtà. Ad onor del vero, per mettere in sicurezza l'intera struttura occorreranno circa 16 milioni di euro. Il primo stanziamento però consente quantomeno di guardare al futuro con rinnovato ottimismo, ed è per questo che il presidente della provincia di Sernia, Daniele Saia, ha parlato di giornata storica per tutto il territorio non solo altomolisano.